In occasione della festa di Ogni Santi e della giornata dedicata ai defunti è partito il restyling di Cartecchio, il cimitero urbano di Teramo. Ma non solo di questo. La Teramo Ambiente fa sapere di essere impegnata, come ogni anno, ad interventi di pulizia delle aree cimiteriali sull'intero territorio comunale che interessano 16 cimiteri frazionali e che riguardano anche soluzioni per poter accedere alle zone tuttora interdette per problemi di sicurezza causati dal terremoto. I lavori in corso nei cimiteri per le ricorrenze di novembre dovrebbero concludersi proprio in queste ore. Ma come si potrà accedere a quei padiglioni ancora inagibili? Il Comune sta pianificando visite accompagnate in collaborazione con gli operatori della protezione civile. Orari e criteri saranno presto resi noti dalla TEAM. Rispetto allo scorso anno sembrerebbe però che le aree accessibili, specialmente nei cimiteri più piccoli, saranno maggiori. Al contrario resterà invariata la situazione di Cartecchio, dove si cercherà invece di migliorare i servizi per i visitatori con difficoltà motorie, grazie al ripristino dei due mezzi elettrici per gli spostamenti interni al cimitero inutilizzati da tempo. Intanto le visite ai cari estinti sono già iniziate, complici le giornate calde e soleggiate, e non tutto sembra ancora funzionare a dovere. Arrivano infatti le prime proteste per la mancanza d'acqua dal cimitero frazionale di Poggio Cono, dove i cittadini hanno trovato i rubinetti a secco. Così, per lavare le tombe e cambiare i fiori, hanno dovuto portarsi l'acqua da casa. Un grave disagio segnalato alla Ruzzoreti. Un grave disagio segnalato alla Ruzzoreti.